Passavano i giorni e mia sorella mi diceva dove sta papà e quando torna mamma, ma poi un bel giorno si presenta alla porta, ma sta andando che era un amico di famiglia, insieme a una signora. Senza capire niente io e mia sorella, senza vestito, senza scarpe, senza mangiare, senza più manca mamma e papà, ci ritrovammo sopra d'un tre, felice, felice come una Pasqua. Grazie.